Ciao leggine, ciao leggini, benvenuti a un nuovo video 5 consigli per comunicare con gli angeli. Lo facciamo come al solito con le carte dei custodi della luce e andiamo subito a vedere. Io per prima sono curiosissima. Poi mi raccomando se non sei iscritto al canale youtube delle leggi della magia, fallo subito. Se questo video ti piacerà regalaci un like ma soprattutto scrivi nei commenti quale dei 5 consigli è quello che ti è piaciuto di più. Vediamo subito il primo consiglio per comunicare con gli angeli. Ilarion, allora per comunicare con gli angeli bisogna avere la volontà di pulire il canale. La prima cosa è guarire il canale di comunicazione. Lavorare con gli angeli è un'energia bellissima, è un'energia di pace, di amore ed è un'energia di guarigione. Quindi la cosa importante quando si lavora con gli angeli è avere la volontà di pulire il proprio canale energetico. Perché poi è quel canale che aiuta la comunicazione, aiuta a ricevere i messaggi e soprattutto dona proprio profonda guarigione. Il secondo consiglio per comunicare con gli angioletti è lo spirito santo. Il secondo consiglio è aspettarsi i miracoli. Gli angeli sono giocosi. Quando si vuole lavorare con gli angeli veramente bene bisogna tornare i bambini, bisogna giocare e aprire le porte ai miracoli. Nel momento in cui ci mettiamo in quella serena e pacifica accettazione del fatto che cose meravigliose stanno succedendo nella nostra vita, allora gli angeli possono apparire. Quindi il modo migliore per comunicare con gli angeli è aspettarsi i miracoli. Nel momento in cui ti aspetti i miracoli, gli angeli hanno la porta aperta per fare tutto quello che possono e devono. Terzo consiglio. Lord Shiva Allora, Shiva ci parla di trascendenza. Per comunicare con gli angeli dobbiamo uscire un po' dalla comfort zone. Anche a me spesso sapete che io ho tenuto vari corsi sugli angeli, li trovate sul mio blog, per leggere le carte angeliche, in generale, per leggere le carte degli angeli del cuore, e gli stessi tarocchi, anche corsi di tarocchi, spesso uso anche due mazzi, proprio per dimostrarvi che il metodo è universale. Quindi sia un tarocco classico, che sono solitamente i visconti quelli che uso, e sia un tarocco angelico, proprio per dimostrarvi questa cosa. E quello che ci insegna Lord Shiva è che per comunicare con gli angeli bisogna uscire un po' dalla propria comfort zone. Se voi aspettate che l'angelo bussi a casa, tipo correare Amazon e faccia tipo, ciao, salve, piacere, io sono l'angelo, l'arcangelo, è un nome e cognome, non funziona così. Dobbiamo aprirci a qualcosa di più, dobbiamo aprirci alla recettività, dobbiamo aprirci alla giocosità, alla fiducia piena, perché l'aspettativa del miracolo è tanta roba. Dobbiamo aprirci alla guarigione, quindi alla voglia di percepire un'energia che ci trasforma, trasformativa. E questo ci permetterà di trascendere. Quindi nel momento in cui lavoriamo con gli angeli e troviamo la piuma, ci stanno comunicando, non è ci stanno comunicando, punto interrogativo. Se io sto già comunicando, loro mi comunicano così, non mi comunicano, ripeto come il correare Amazon che arriva e bussa la porta, comunicano in un linguaggio sottile, quindi di segni, di simboli, di sogni, e quindi bisogna andare un attimo verso la trascendenza, è un po' fuori dalla comfort zone. Questo era il consiglio numero tre. Shiva è così, nel senso non ci va sempre il sottile, è diretto. Consiglio numero quattro. E vabbè, giustamente se si parla di angeli non poteva che arrivare il maestro Gesù. Per lavorare con gli angeli è fondamentale, per comunicare con gli angeli è fondamentale iniziare ad accogliere nella propria vita il perdono. Perché? Perché solo nel sentiero della luce, dell'amore, della pace, della collaborazione, della fratellanza, della sorellanza incontrate gli angeli. Se siete arrabbiati, se siete irosi, chiaramente una comunicazione con delle creature così delicate, di un'energia così sottile, vi sfugge. Quindi è chiaro che magari l'angelo vi dà un consiglio, e se non state nella giusta frequenza vibrazionale, la comunicazione diventa più difficile. E infine, ultimo consiglio, Lei di nada. Allora, per comunicare con gli angeli bisogna aprire il cuore. Gli angeli parlano alle nostre menti, sicuramente illuminandole, parlano anche al nostro cuore. Quindi quando comunicate con gli angeli potreste sentire delle forti emozioni, potreste sentire battervi il cuore, potreste voler riaprirvi all'amore, al perdono, potreste voler donare, fare qualcosa di carino per gli altri, magari chiamare qualcuno, anche che tra virgolette ci avete un po' discusso, non se lo merita, non lo so, insomma, diventate più di cuore, è inevitabile. E aprendo il cuore si comunica il più con gli angeli. Quindi, cinque consigli per comunicare con gli angeli sono Consiglio numero uno, iniziare un processo di guarigione e parlare un linguaggio di guarigione, voler guarire. Secondo, aspettarsi miracoli. Terzo, uscire dalla comfort zone e andare verso la trascendenza, quindi innalzarsi, guardare segni, simboli e sogni. E c'è anche il mio corso, sotto ti metto il link, per imparare a leggere i segnali dell'universo. Quarto, lavorare con il perdono, parlare con gli angeli di perdono, perché vi possono aiutare tantissimo. E quattro, comunicare con il cuore. Qual è il consiglio che ti è piaciuto di più? Scrivelo nei commenti, regalaci un like e iscriviti al canale YouTube. Ciao e al prossimo video. Tanta luce!